Nulla non sa stare ferma, non sto viaggiando di nuovo per andare in Sicilia Sicilia è grande, comunque, come al solito tutto insieme mi hanno preso all'Accademia, come qualcuno già sa l'Accademia del Master Internazionale dello Spettacolo ma è male che mi hanno presa, perché certo dopo una performance come quella che ho fatto io con il nuovo inedito Sweet Sex, scritto Sweet numero 6 come le sweet classiche, quindi è un gioco di parole e Sweet Sex leggendolo appunto diventa come dolce come il sweet scritto in inglese, ovviamente è un altro modo vabbè, insomma, dopo quella performance praticamente sono riuscita a essere inserita nell'Accademia e quindi con condizioni speciali per noi che entriamo però le cose si mettono sempre un po' strane cioè era da tempo che aspettavo la risposta del Maestro Valsiglio per la compilation Juliette Lofts Romeo e quando è che mi capita? proprio all'ultimo giorno di Master quindi per la seconda volta mi ritrovo a dove scappare dalla lezione del Master per correre a Verona a presentare la compilation Juliette Lofts Romeo è tutto insieme e lì ci sarà la mia canzone meravigliare che è comunque una canzone d'amore ben si inserisce nella compilation ma in ogni modo oltre ad essere una canzone d'amore è molto ritmica tanto per cambiare nulla non si smettisce mai